Come vi ho detto arriviamo oggi alla lezione principale per un corso rivolto appunto dei futuri designer quindi ovviamente parliamo di design industriale più che altro di design del prodotto però appunto per un corso come una laurea alisia è sicuramente il dulcis in fundo di questo mio corso che si intitola genericamente come avete visto la gestione dell'attività professionale ma diciamo una buona parte, la seconda forse anche di più, quindi più della metà del corso dedicata alla tutela della proprietà intellettuale. Come vi ho detto per arrivare a comprendere come funzionano i meccanismi di tutela del design industriale secondo la legge italiana e europea è necessario fare un giro più largo cioè passare prima dal mondo dei brevetti poi quello dei marchi quindi conoscere prima come funziona il diritto d'autore e poi arrivare al design perché come vedremo in una slide molto chiara il design mette insieme un po' tutti questi elementi sovrappone le tutele previste diciamo per appunto brevetti, marchi e diritto d'autore e anche storicamente è l'istituto di proprietà intellettuale arrivato più di recente perché come vedremo benché la tutela dei modelli e disegni esistesse già prima già dagli anni 30, 40, 39 quindi quegli anni in cui ci sono nate le leggi sul diritto d'autore brevetti e marchi vedremo che però la tutela di design in senso moderno come lo intendiamo noi oggi è figlia di una direttiva europea del 98 che ha portato poi nel 2001 a modificare anche appunto la legge nazionale italiana e bene adesso iniziamo con l'introduzione e vedremo anche un po' storica vi spiegherò come siamo arrivati alla normativa vigente e serve appunto per capire un po' le varie stratificazioni di norme e di principi che si sono venute a creare in questi anni innanzitutto allora introduzione generale ai principi come dicevo appunto è uno di quelle forme della creatività umana che sono soggette ad un cumulo di tutele si dice tecnicamente cioè ci sono più tutele che insistono sullo stesso oggetto nel diritto alla proprietà intellettuale quindi il design industriale è una delle poche forme di creatività che sono soggette a un cumulo di tutele significa che a seconda dei casi può essere soggetto alla tutela di più istituti giuridici ciò implica che quindi lo studio di questa parte richieda la pregressa conoscenza dei principi e dei meccanismi tipici del diritto d'autore del brevetto del marchio e del segreto industriale ecco la parte storica è una parte che come dire mi è venuta particolarmente bene io ho un po' una vocazione da storico del diritto e quindi ricostruire un po' la storia è utile è chiaro che per chi fa il mestiere poi sapere com'era la normativa precedente voi mi direte ma insomma cosa ce ne facciamo è inutile è ok però siamo in un corso universitario e quindi non vi dovete solo attenere alla realtà dei fatti odier ma avere un po' riuscire a farvi delle domande sul perché e come siamo arrivati alla situazione di oggi quindi è comunque una parte secondo me molto interessante e molto utile che vi fa capire come prima la percezione del design come tipo di come forma di creatività era diversa ed era diversa anche cioè questa differenza di percezione si legge si trova anche nelle norme giuridiche allora la normativa precedente a quella che abbiamo oggi era costituita da un regio decreto il regio decreto sta per regio decreto perché prima della repubblica i decreti erano reggi perché erano firmati dal re regio decreto 1411 del 1940 che si intitolava disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali quindi non si parla davvero del design come lo intendete voi ma più legato comunque all'aspetto di produzione di modelli industriali che a sua volta poi faceva riferimento a un precedente regio decreto dell'anno precedente quindi 1939 1127 del 1939 sulle invenzioni industriali che era la precedente legge sui brevetti come vi ho raccontato la volta scorsa noi adesso abbiamo il codice della proprietà industriale che è una norma del 2005 che raccoglie tutte le norme in materia di proprietà industriale lasciando fuori solo la parte sul diritto d'autore quindi marchi, brevetti, design, tutela del segreto, del know-how sono tutte finite in un unico decreto legislativo che è chiamato poi codice della proprietà industriale all'epoca però avevamo una legge sui brevetti che era un regio decreto e sui brevetti per le invenzioni industriali e poi avevamo una invece sui brevetti per modelli industriali quindi questa normativa si occupava dei cosiddetti modelli di utilità di cui abbiamo già parlato vi ricordate quando abbiamo parlato dei brevetti che ci sono i brevetti sulle invenzioni vere e proprie che sono quelli che durano 20 anni dalla data del deposito e poi ci sono dei brevetto su modelli di utilità che è una piccola invenzione tra virgolette è un pezzo di invenzione che dura 10 anni rimando alle slide della lezione precedente non ci torniamo più però poi c'era in quella normativa quella degli anni 30, 9, 40 anche una parte relativa alla tutela dei modelli e disegni ornamentali la parola ornamentale vi fa già capire come fosse diversa la percezione del design in quegli anni io quando sono venuto a fare la prima lezione a Lisia ancora con la vecchia addirittura due direttori fa era penso 2012-2013 mi ricordo che su questa ornamentali sulla parola ornamentali che avevo messo in una slide perché non avevo fatto altro che riprendere la norma dall'epoca direttore di sé caspita guarda come siamo rimasti indietro che c'è ancora questa percezione per cui il design è puro ornamento non si capisce l'importanza del design invece come studio diciamo dell'impatto sull'usabilità sull'utilizzo del prodotto da parte degli utenti e quindi appunto ornamentali anche di semplice abbellimento invece manca tutta la parte che sicuramente voi siete più esperti di me relativa appunto all'utilizzo e alla funzionalità di un oggetto di design quindi dei modelli design ornamentali venivano chiamati erano intesi come nuovi modelli questa è la definizione che c'era nella norma nuovi modelli o disegni atti a dare a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento sia per la forma sia per una particolare combinazione di linee di colori o di altri elementi quindi era espressamente esclusa l'applicazione del diritto d'autore vi ricordate quando abbiamo parlato di diritto d'autore a un certo punto sono arrivati al punto 10 dell'articolo 2 e c'erano le opere di design che denotano carattere creativo e valore artistico vi ho detto tenetevi alla lista cosa che ne parleremo molto bene nell'ultima lezione infatti oggi metà della nostra lezione sarà proprio su quello sulla tutela del design attraverso diritto d'autore l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato del caso Vespa quando la tutela della Vespa è stata in quella sentenza di fronte al tribunale di Torino è stata riconosciuta alla Vespa la tutela di diritto d'autore con tutte le conseguenze che ha all'epoca no all'epoca invece c'era un'espressa indicazione normativa che diceva se è tutelato come disegno ornamentale non è opera dell'ingegno quindi non può essere tutelata con diritto d'autore quindi all'epoca il cosiddetto cumulo di tutele la sovrapposizione di due tutele non era contemplata ed era espressamente esclusa sempre nell'ambito dell'evoluzione normativa la disciplina quindi viene completamente innovata nel 1998 dall'arrivo di una direttiva europea quindi sostanzialmente per 50 anni cioè dal 39-40 fino al quasi 2000 quindi 60 anni scusate nel 1998 quindi 58 anni ci siamo ottenuti una normativa che era quella quella vecchia che è quella prevista nel periodo di guerra anteguerra come si usa a dire 39 quindi appunto è arrivata questa direttiva che come vedete la 98-71 CE è una direttiva per voi molto importante andrebbe adesso non è che dobbiamo andare a commentarla dettagliatamente però è uno di quei punti cardine che vanno tenuti presenti vanno saputi circa la protezione giuridica dei disegni e modelli il legislatore italiano la recepisce con il decreto legislativo 95 del 2001 come sapete come vi ho già spiegato le direttive sono direttive danno dei principi generali ma poi i legislatori i singoli stati membri devono appunto fare delle norme delle leggi nazionali per aggiornare l'ordinamento giuridico nazionale ai nuovi principi indicati della direttiva e quindi ecco qua che comincia a crearsi una distinzione una sovrapposizione di tutele dice il decreto legislativo cioè cosa fa il decreto legislativo del 2001 introduce quel famoso punto numero 10 nella legge sul diritto d'autore e riformula anche il numero 4.4 dell'articolo 2 e poi va a toccare anche il reggio decreto 1411 1411 del 40 che era quello sui disegni e modelli quindi abbiamo ancora nel 2001 il reggio decreto come norma di riferimento per il mondo dei disegni e modelli solo successivamente arriverà il codice della proprietà industriale quindi per diciamo per qualche anno il codice della proprietà industriale arriva nel 2005 quindi per quattro anni abbiamo una norma che era ancora quella del 40 ma aggiornata ai principi della direttiva e poi la modifica all'interno della legge sul diritto d'autore che appunto funge diciamo viene realizzata con una riformulazione del numero 4 che prima non citava i disegni in quel senso quindi riforma numero 4 fa riferimento all'arte figurativa tra cui anche le opere del disegno e poi aggiunge proprio un punto in più il numero 10 parlando di opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico la prima volta in cui nella legge sul diritto d'autore non viene citato il carattere creativo e basta come requisito fondante ma viene aggiunto il valore artistico l'unico caso in cui è richiesto anche il valore artistico innescando tutta una serie di questioni su che cosa si debba intendere per valore artistico ci torniamo dopo perché è davvero uno dei punti più importanti più interessanti per chiudere la parte sull'evoluzione normativa anche questa terza slide quindi come vi ho detto per qualche anno abbiamo avuto quella situazione intermedia ma poi il legislatore italiano decide di riordinare tutta la disciplina in materia di proprietà industriale in un unico testo vengono chiamati a volte appunto testo unico oppure codici quando trovate la parola codice sulla privacy codice di proprietà industriale codice di beni culturali vuol dire che serve un po' da testo unico cioè un unico testo in cui si trovano tutte le norme su quella materia il codice della proprietà industriale fa esattamente quello lasciando fuori il diritto d'autore perché il diritto d'autore attiene a volte anche a questioni che non sono strettamente industriali e sono sempre state gestite in modo un po' separato e quindi nel codice della proprietà industriale vengono assorbite le norme che precedentemente erano nel reggio decreto del 40 e quindi adesso le trovate dagli articoli vedete qua la parte del codice della proprietà industriale relativa dedicata ai disegni e modelli finisce qua negli articoli 31 e 44 quindi dagli articoli 31 e 44 troviamo sostanzialmente i principi aggiornati agli anni 2000 anche come terminologia che c'erano prima nel reggio decreto del 1940 e poi nella legge sul diritto d'autore sempre in quegli anni nel 2005 solo le forme di design che presentano di per sé caratteristiche quindi questo non viene toccato diciamo il testo della norma ma rimane questa duplice normativa diciamo quindi quando noi parliamo di design dobbiamo andare a cercare norme in due testi uno è la legge sul diritto d'autore che in realtà non è che dica molto dice solamente che se c'è valore artistico viene riconosciuto anche il diritto d'autore solo quello e poi c'è tutta la giurisprudenza cioè le decisioni dei giudici che dal 2001 in poi hanno spiegato che cosa si debba intendere per carattere per scusate valore artistico che è davvero la parte più interessante per il resto le norme sui disegni e modelli sono invece nella sezione 3 del codice della proprietà industriale articoli 31 e 44 ne vedremo un bel po' oggi di norme di quella parte grazie grazie